Io sono Michela, sono una delle divorziate, detto così sembra una scommessa difficile da mantenere, però diventerò veramente questa Michela, questa signora, un po' sopra le righe, un po' incredibile ma assolutamente donna e vado a trovare lei, vado a chiedere casa a lei perché lei ha messo una casa in locazione e poi scopro che anche lei viene a cercarsi uno spazio in questa casa perché le case a Milano sono care, una donna da sola, magari con un solo lavoro, pagarsi una casa a Milano e che casa, insomma non è una scommessa semplice, in tre, quando si è insieme in un clan forse diventa tutto più semplice, forse.